Oggi è stato diffuso un video che mostra un elicottero militare americano mentre spara su dei giornalisti inermi. 12 milioni di persone hanno visto quel video. Pensi ancora che sia solo un piccolo sito web? Un uomo difficilmente sarà se stesso se parla in prima persona. Ma se gli date una maschera... Lui vi dirà la verità. Quell'uomo potrebbe far crollare il più potente e il più repressivo dei regimi. L'ex presidente della più grande banca d'Islanda è stato accusato di frode. Abbiamo demolito una banca miliardaria. È pazzesco. Il coraggio è contagioso. Oggi la Casa Bianca ha ammesso che sono stati fatti trapelare più di 90.000 documenti militari. Ci stanno addosso. Dobbiamo pubblicare ora. Questa è la più grossa diffusione di notizie riservate della storia. Il Guardian, il New York Times, tutti sono tutti dalla tua parte. Questo cambierà le cose. Non è un giornalista. È una minaccia alla sicurezza nazionale. Siamo sull'orlo di una grave crisi internazionale. Se vuoi farlo, dobbiamo farlo ora. Avete solo 5 secondi. 50 secondi. Queste sono informazioni che il mondo deve conoscere. Dobbiamo annientare quella gente. Sta mentendo il Times Mint. Se volete la verità, dovrete cercarvela da soli.